Presso il vecchio faro di Fiumicino associazioni, comitati e tavoli tecnici si sono incontrati per fare il punto della situazione sulle criticità dell'area e i grandi progetti portuali che ancora oggi interessano il comune. Oggi siamo qui nell'ambito del tavolo della costa che abbiamo organizzato e siamo qui con altre associazioni fra le quali i tavoli del porto che rappresentano loro stessi altre associazioni che da qualche anno hanno cominciato a mettere in discussione la possibilità di fare questo grande porto in prossimità del vecchio faro di Fiumicino. Insieme a loro stiamo cercando di capire quali sono le problematiche legate a questo progetto. Un progetto che secondo molte associazioni potrebbe avere un impatto devastante sul territorio. È un progetto che prevede l'arrivo delle grosse navi da crociera, navi che non possono attualmente entrare in questa darsena perché non c'è la profondità necessaria. Quindi questo già da solo prevede lo scavo di tutta l'area per consentire a queste navi di arrivare. L'altra grossa problematica è legata poi al mancato indotto dal momento che queste grosse navi arriveranno, scaricheranno qui i turisti che andranno a Roma e tornando qui ritorneranno poi sulla nave senza lasciare alcun impatto, senza avere alcun impatto sull'economia locale. L'altro grosso impatto sarà sulla viabilità perché queste persone scenderanno qui, saliranno su un pullman, su pullman che andranno a intasare tutta la viabilità che è sempre su gomma, non c'è una ferrovia che porta a Roma. Quindi tutto sommato è prevedibile che quest'area diventi un supporto per il turismo su Roma, ma non per un turismo locale. Perché Fiumicino è caratterizzato da un turismo che vede movimenti locali, quindi caratterizzato dalla ristorazione, questo posto stesso è molto suggestivo, è un posto che rappresenta Fiumicino, quindi verrebbe completamente stravolto.